A due mesi dalla grande nevicata e dal terremoto, Castelli, paese di circa mille anime, ai piedi del Gran Sasso, non perde la speranza di continuare a vivere. Famosa per le sue ceramiche in tutto il mondo, oggi è diventato un paese ad alto rischio frane e attualmente sono 90 le famiglie sfollate sulla costa abruzzese, residenti nel centro storico ricentato perché zona rossa. E' proprio per l'inagibilità di casa diacente alle due chiese del paese che sull'ultima sono state chiuse. Tanta solidarietà che è stata fatta addirittura dal Giappone, come ci racconta Don Franco D'Angelo. Don Franco D'Angelo è il parroco di Castelli, dal 1998 abita qui. Qual è la situazione? Possiamo dire che questo è stato l'ultimo terremoto perché nello stesso tempo Castelli sta nel cratere dal 2009, quindi la zona rossa del centro storico è dal 2009 che è chiusa e che nello stesso tempo tanta gente è andata via. Quindi tutta la dimensione della ceramica castellana o meno in questo momento è quasi bloccata perché poi, tra virgolette, anche se le persone possono stare lì, aprono, però i turisti non vengono. Quindi speriamo che ci sia questa ripresa a livello economico o meno per i castellani per poter ripartire, perché una volta che riparte alla dimensione economica è anche far sì che possano tornare le famiglie che ancora stanno... Certo, un dichiamo anche per le famiglie che sono ormai... Andate via, andate via perché nel 1998 eravamo quasi 1.600, 1.700 persone, oggi siamo quasi 1.900 abitanti. Quindi c'è stato un calo democratico molto forte. Però nello stesso tempo, ecco, ci sono dei segni di speranza dove il paese e la gente del posto ha voglia di ripartire. Un segno di speranza è la scuola che tuttora è aperta o meno e che speriamo che l'anno prossimo possiamo avere iscritti per continuare il liceo di design. Infatti l'istituto d'arte lì a San Donato è aperto, è agibile. Sì, il liceo di design è aperto, poi anche a scuola media, scuola elementare, scuola matera abbiamo tutto aperto. I giovani, diversi ragazzi che ancora tuttora, nonostante tutto, con il gruppo scout continua di Castelli, con i ragazzi che vengono da tutte le parti di vari paesi, che hanno subito tutti i vari paesi, terremoto, neve, eccetera, eccetera. Quindi, però oggi ecco, hanno voglia di ricominciare, di stare insieme, nonostante tutte le difficoltà. Abbiamo avuto anche tanta solidarietà, perché siamo stati liberati, possiamo dire, da delle turbine che sono venute dalla Svizzera, da Bellinzona. Come mai dalla Svizzera? Perché sono stati contattati dal vice sindaco che aveva il fratello lì e quindi hanno capito che non mandavamo più messaggi di come stavamo o meno e sono scesi direttamente. E hanno portato anche 18 guindali di viveri, che poi abbiamo dati anche qui il rimanente alla Caritas di Giocesana, perché la Caritas di Giocesana si è stata vicina con i pacchi in quei giorni e ancora tuttora. Sotto alla casa parrocchiale abbiamo aperto un centro d'ascolto per chi sia per la dimensione economica, materiale e psicologica. Vengono il martedì dalle 10 alle 12 le persone che stanno a disposizione per aprire lo sportello. Sono stati anche gruppi scatto come la zona con Cadoro di Palermo, dove 18 gruppi hanno fatto un'attività di autofinanziamento per la casa parrocchiale che dobbiamo aggiustare perché con la neve il tetto ci è rovinato e quindi essendo la casa parrocchiale un centro di aggregazione per tutti, non solo per i ragazzi, ma è stato ricovero per i terremotati. In questo momento anche le persone anziane per fare ginnastica la sera vengono lì, fanno pur i corsi di Zumba per i giovani. Attualmente c'è anche, celebriamo ogni messa perché le chiese sono ancora quasi tutte, tranne San Donato che è aperto, inagibili o perché hanno problemi loro, comunque ci sono le case attorno che non permettono di riaprire. Per cui le chiese restano chiuse, perché le chiese sono agibili. Le due di Castelli nel centro storico, sì, quella la dobbiamo riaprire dal restauri e la chiesa di San Donato è agibile. San Donato, San Rocco è agibile, a Villarossi non abbiamo la chiesa agibile, però ne ho 12 di chiese, quindi diverse sono chiuse ancora per questo motivo. Nello stesso tempo questa solidarietà che si vede anche la Caritas italiana ha sposato il progetto anche di mettere in sicurezza la casa parrocchiale, è venuto il direttore nazionale e il vice direttore a farci visita. Quindi possiamo dire che a livello ecclesiale eccetera eccetera, c'è stata tanta solidarietà. Io non dico, speriamo che i riflettori non si spengano perché sembra come che la gente viene per fare i servizi o meno. Speriamo che arrivi ciò che è necessario per ripartire, perché molte volte non servono tante cose, ma servono quelle poche cose al momento giusto. Siamo con Diana e Tullio, due caporeparto degli scout di Castelli e il 18 di gennaio la scossa. Eravate qui oppure? Allora noi eravamo, io sono di San Pietro, un paese qui vicino, non eravamo qui perché eravamo sommersi dalla neve, quindi era un po' complicato fare attività. Abbiamo avuto non pochi problemi, non solo per la scossa perché già di per sé non è poco. La neve è dove abito io, ma più o meno anche qui a Castelli erano tre metri, quindi anche potevi scappare. Come hai vissuto quegli attimi? Paura perché durante la scossa sono rimasta in casa perché a neve, altezza porta, neanche potevi scappare, quindi nel dubbio stai ferma sotto. Adesso le attività sono riprese? Allora qui la sede diciamo che è abbastanza sicura, quindi abbiamo potuto riprendere le attività diciamo senza grandissimi problemi. Ovviamente con il terremoto comunque ci sono state anche delle lesioni all'interno della casa padrocchiale perché noi la sede ce l'abbiamo qui a Castelli, sede padrocchiale e ovviamente è stata fatta controllare, comunque è sicura per i ragazzi, ciò non toglie che ci sono diversi problemi anche alle tettoie, al tetto, però ecco la sicurezza per i ragazzi. Tullio? Ora per me lo scautismo oltre a un grande hobby come passatempo, diciamo per me è un servizio, da dove vengo io diciamo che siamo più capi che ragazzi, quindi è facile fare scautismo lì, io sono venuto qui perché è un gruppo di cui ha bisogno di gente e poi c'è il parroco che è il mio cugino, quindi la domenica si mangia, si beve, ci si diverte, si scherza e si sta insieme anche con i ragazzi, dando loro i valori che sono oltre qui magari possono sembrare banali, fuori poi potranno magari servire un giorno per la loro educazione quotidiana. Certo, voi siete stati comunque anche un punto di riferimento per i ragazzi, per gli scout? Diciamo che qui nella zona per i ragazzi non c'è molto, quindi anche lo scautismo, magari ritrovarsi la domenica insieme all'inizio dai lupetti sotto forma di gioco, comunque di giungla, si sta insieme, si passa del tempo insieme e con il gioco partendo appunto dai lupetti comunque si crescono come ha detto anche Tullio con dei valori che è stato scientificamente provato che chi fa lo scout nella vita futura comunque è più agevolato perché è più aperto all'altro, comunque è abituato a condividere, quindi diciamo che aiuta anche nella vita lavorativa. Ok, sentite di dare un messaggio ovviamente di speranza non soltanto per i vostri ragazzi ma per tutta la gente di Castelli e anche ovunque dintorni. Allora diciamo che ultimamente contro il terremoto la neve si tende un attimo ad allontanarsi dalla zona per paura, però spero che la gente capisca che ovviamente si dira paura, il terremoto, la neve, però qui è un bel posto, ci sono persone a disposizione degli altri e quindi speriamo che si possa riprendere al meglio.